Chekhov, il sottoufficiale Priscibief Sottoufficiale Priscibief, voi siete imputato di avere il 3 settembre corrente, oltreggiato con parole e conatti il brigadiere Zyghin, l'anziano della Volost Aliapov, l'appuntato Yefimov, i testimoni Ivanov e Gavrilov e altri sei contadini, nella quale circostanza, ai primi tre, fu da voi recato altraggio nell'esercizio delle loro funzioni. Vi riconoscete colpevole? Priscibief, un sottoufficiale grinzoso dal viso aguzzo, si mette sull'attenti e risponde con voce rauca, soffocata, martellando ogni parola come se impartisse comandi. Alta signoria, signor giudice conciliatore, dunque, secondo tutti gli articoli della legge, si ha ragione di attestare ogni circostanza alla rovescia. Colpevole non sono io, ma tutti gli altri. Tutta questa faccenda è nata per causa, gli si è concesso il regno dei cieli, d'un morto cadavere. Me ne vado io, il tre del mese, con mia moglie in fissa, quietamente, correttamente. E guardo. Sulla riva sta un mucchio d'ogni sorta di gente. Con qual diritto, se qui radunata gente, domando. Perché? Forse che nella legge è detto che la gente debba andare come una mandra? Grido, scioglietevi! Cominciai a disperder la gente, perché se ne andassero a casa loro, ordinai all'appuntato di cazzarli a spintoni. Permettete, voi non siete mica il brigatiere nello starosta. È forse affar vostro che c'è via la gente. Non è affar suo, non è, si odono voci da vari angoli dell'aula. Non ci lascia in pace, alta signoria. Sono quindici anni che ce ne fa passare. Come venne dal servizio, da quel momento ci sarebbe stato da fuggir dal villaggio. Ha messo in croce tutti. Proprio così, alta signoria, dice lo starosta testimone. Ci legniamo tutti, in coro. Vivere con lui è assolutamente impossibile. Ce ne andiamo in giro con le immagini. Che ci si annozze o che poniamo, succeda un caso qualunque. Dappertutto lui grida, fa chiasso. Sempre vuol mettere ordine. Ai fanciulli tira le orecchie. Alle donne sta dietro perché non accada qualcosa. Come se fosse un qualche suocero. L'altro giorno andava per le isbe e ordinava che non cantassero canzoni e che non accendessero fuochi. Una legge, diceva, che permetta di cantare canzoni non c'è. Aspettate. Avete ancora il tempo di deporre, dice il conciliatore. Ma adesso continui Priscibief. Continuate, Priscibief. Obedisco, dice Rauc al sotto ufficiale. Voi, alta signoria, vi compiacete di dire che non è affar mio disperdere la gente? Bene. E se ci fossero disordini? Forse che si può permettere che la gente commetta eccessi? Dove è mai scritto nella legge che si debba lasciare libero il popolo? Io non posso permetterlo. Se io non starò a disperdere e a perseguirli, chi dunque lo farà? Nessuno conosce i veri regolamenti in tutto il villaggio. Io solo si può dire, alta signoria, so come trattare la gente di semplice condizione. E, alta signoria, posso capire tutto. Non sono un contadino. Sono un sotto ufficiale, un'armiera a riposo. Prestai servizio a Varsavia, allo Stato Maggiore. E dopo che, se volete saperlo, andai in congedo assoluto, fui nei pompieri e poi, per debole salute, venni via dai pompieri e per due anni servii al pro-ginnasio classico maschile come guardia portone. Tutti i regolamenti conosco. E il contadino è un uomo semplice, non capisce nulla e deve ascoltarmi. Perché, per il suo stesso bene. Si prenda magari ad esempio questa faccenda. Io disperdo la gente e sulla sabbia della riva c'è il cadavere annegato ad un morto. Per quale ragione mai? Domando. È qui disteso. Forse che ciò è ordine. Che cosa guarda il brigadiere? Perché tu, brigadiere, dico, non lo fai sapere all'autorità? Forse questo morto annegato è annegato da sé. Ma forse questa faccenda sa di Siberia. Forse c'è qui un omicidio criminale. Il brigadiere Zigin non ci bada per nulla. Fuma soltanto la sigaretta. Che vigilante avete mai qui? Dice. Di dove? Dice. Vi è piovuto. Forse che senza di lui? Dice. Non sappiamo che condotta tenere. Si vede, dico. Che non lo sai. Imbecille che sei. Se stai qui e non fai attenzione. Io, dice, fin da ieri l'ho fatto sapere al commissario rurale. E perché, domando, al commissario rurale? Per quale articolo del codice? Forse che in tali casi, quando ci sono annegati o strangolati, o altre cose simili, forse che in tali faccende il commissario ha potere. Qui, dico, c'è un affare criminale, civile. Qui, dico, bisogna inviare al più presto una staffetta al signor giudice istruttore e ai giudici. E per prima cosa tu devi, dico, redigere verbale e mandarlo al signor conciliatore. E lui, il brigadiare, ascolta tutto e ride. E i contadini anche. Tutti ridevano, alta signoria. Posso deporlo sotto giuramento. E questo qui rideva. E quello là. Anche Zigin rideva. Perché, dico, mettete in mostra i denti. E il brigadiere dice Tali faccende, dice Non son di competenza del giudice conciliatore. Proprio queste parole mi fecero montare il sangue alla testa. Brigadiere, vero che hai detto questo? Si rivolge il sottufficiale al brigadiere Zigin. L'ho detto. Tutti han sentito come tu dicevi proprio questo davanti al popolino. Tali faccende non son di competenza del giudice conciliatore. Tutti han sentito come dicevi proprio questo. A me, alta signoria, montò il sangue alla testa. Mi sbigottì perfino. Ripeti, dico, ripeti. Tu così così, quel che hai detto. Lui torna a dir queste stesse parole. Io vado verso di lui. Come mai, dico, puoi esprimerti così a proposito del signor giudice conciliatore. Tu, brigadiere di polizia, sei contro l'autorità? Ma tu, dico, sai che il signor giudice conciliatore, se vorrà, potrà per simili parole denunciarti alla direzione provinciale della gendarmeria a motivo della tua malfida condotta? Ma sai tu, dico, dove può spedirti per simili parole politiche il signor giudice conciliatore? E l'anziano dice, il conciliatore, dice, oltre i suoi limiti non può segnalare nulla. Solo le piccole cause sono di sua competenza. Così, disse, tutti han sentito. Come mai, dico, osi abbassare l'autorità? Beh, dico, con me non fare scherzi. Se no, dico, la va male. Un tempo, a Varsavia, quando ero guardaportone al proginasio classico maschile, appena sentivo qualche parola che non andava. Guardavo nella via se non si vedesse un gendarme. Vieni qua, cavaliere, dicevo, e gli riferivo tutto. Ma qui in campagna? A chi, dirlo? Mi prese la rabbia. Mi sentivo offeso che la gente di qui si fosse lasciata andare all'arbitrio e all'indisciplina. Alzai il braccio e, certo, non già con forza, ma così, normalmente, leggermente, perché si guardasse dal dir simili parole a proposito dell'alta signoria vostra. Il brigadiere prese le parti dell'anziano. Io, per conseguenza, anche al brigadiere. E avanti. M'ero scaldato, alta signoria. Eh, si sa. Non si può farne a meno di picchiare. Se lo stupido non lo picchi, è un peccato che ti prendi sulla coscienza. Specialmente se è per una cosa seria. Se c'è un disordine. Permettete, ai disordini c'è chi deve badare. Per questo c'è il brigadiere, lo starosta, l'appuntato. Il brigadiere non può badare a tutto. E poi il brigadiere non capisce ciò che capisco io. Ma capitela, che non è affar vostro. Perché? Come mai non è affar mio? Bizzarro. La gente fa eccessi e non è affar mio. Che ho, da elogiarli, eh? Loro, ecco, si lagnano che io proibisco di cantare canzoni. Ma che c'è di bello nelle canzoni? Invece ad occuparsi di qualche faccenda, loro cantano canzoni. E hanno anche preso la moda di passar le sere col fuoco acceso. Bisogna andare a dormire. E loro fanno discorsi e risate. Io ce l'ho segnato. Che cosa avete segnato? Chi sta col fuoco acceso? Priscibiev. Cava di tasca un foglietto di carta unto. Inforca gli occhiali e legge. Contadini che stanno col fuoco acceso. Ivan Prokhorov. Savva Mikiforov. Piotr Petrov. La Sustarov, vedova da un soldato, vive in depravata licenza con Semyon Kislov. Ignat Sverciov si occupa di magia. E sua moglie Mavra è una strega. La notte va a mungere le vacche altrui. Basta, disse l'udice. E comincia a interrogare i testimoni. Il sottufficiale Priscibiev solleva gli occhiali sulla fronte. E guarda con meraviglia il conciliatore. Che evidentemente non è dalla sua parte. I suoi occhi sgranati brillano. Il suo naso si fa d'un rosso vivo. Egli guarda il conciliatore, i testimoni. E in nessun modo può capire perché il conciliatore sia tanto agitato. E perché da tutti gli angoli dell'aula giunga ora un mormorio, ora un riso lattenuto. Incomprensibile gli è pure la condanna. Un mese di detenzione. Per che cosa? Dice allargando perplesso le braccia. In base a che legge? E per lui è chiaro che il mondo si è mutato. E che vivere al mondo è ormai assolutamente impossibile. Cupi. Tristi pensieri si impadroniscono di lui. Ma uscito dall'aula e visti i contadini che si affollano e parlano di qualche cosa, egli, per un'abitudine che non può più dominare, si mette sull'attenti e grida a voce rauca, adirata. Gente, scioglietevi. Non affollatevi. Andate a casa. E che cosa? E che cosa? Grazie a tutti.